Il progetto nasce come spesso capita direttamente sullo spazio, visto questo luogo molto particolare mi ha subito compreso che potrebbe essere stato un ottimo luogo di invenzione, mettendo queste telecamere, questo disegno, facendo rimbalzare un po' le immagini, raccontandole e poi attraverso questa pittura, perché poi un acrilico avrei potuto trovare qualcosa di interessante. E così effettivamente è stato, perché poi dopo ho fatto anche interagire questo gesso, questo calco del Davide e quest'altro lavoro della pittura, potendo in qualche maniera interagire anche con la storia della scultura oltre che della pittura. Sì, tra immagine e immaginazione, tra realtà e percezione, io ho sempre lavorato sulla percezione, sul piano, sul livello della percezione, su come questa possa essere ancora il centro di una ricerca attraverso la tecnologia, attraverso una tecnologia bassa, insomma, non molto complessa. Il racconto della realtà e la sua trasformazione attraverso l'immagine e anche l'interazione delle persone, che è un altro aspetto che mi interessa molto. Sì, trasformo la realtà del luogo attraverso le ombre, che poi è uno degli aspetti fondanti della pittura, perché poi comunque a me quello che interessa è sempre stato il disegno, la pittura e le sue trasformazioni. Attraverso le ombre, le ombre del corpo, le ombre di chi guarda, si trasformano questi luoghi, diventano altro. Un altro, direi, fantasmatico, cioè che si mette su un piano percettivo rispetto alle persone, all'occhio della persona, perciò anche all'inganno, che è un tipico argomento dei primordi della pittura. Credo che sia fondante il dipingere l'ombra, che è proprio l'atto fondativo dell'arte. Cioè io rimango molto all'interno di quelli che sono i canoni classici, però poi ovviamente li trasformo con questi modi, con questi riferimenti. Poi molto importante per me sono le stratificazioni, perché l'immagine si poggia sul muro, che poi su cui poi anche il disegno, la pittura a sua volta rimangono sopra e creano una serie, diciamo, di velature. Poi in fondo parlo di quello, perciò parlo, diciamo, di elementi che sono proprio di base e li trasformo. Guardare, vedere è sempre stato un elemento fondativo, nel quale poi mi nutro attraverso proprio le immagini. Vabbè, io vivo a Roma, ma potrei essere stato in qualunque luogo d'Italia, insomma, per essere... Perciò per me anche andare a vedere anche gli scavi archeologici, immediatamente vedo delle suggestioni, anche molto il tempo. Perciò il tempo delle immagini antiche, moderne, anche contemporanee, mi nutrono, riescono a darmi sempre delle suggestioni, delle possibilità di inventare e di raccontare, insomma, quello che è la storia e il tempo della storia. Credo che questo sia molto importante. Il tempo della storia, del passato, del presente, in qualche maniera, appunto, dell'attualizzazione di queste immagini, di queste possibilità. Infatti anche lavorare sul Davide e riconnettersi con il filo della storia dell'arte, per me è sempre stato importante, insomma, non sono mai riuscito, non ho mai voluto uscirne. Sono sempre all'interno, perciò per me vedere mostre, leggere immagini, leggere testi di qualsiasi genere che riguardano direttamente o indirettamente l'arte, è proprio il mio serbatoio, insomma, naturale, al quale attingo a piene mani. Anche in questa mostra era un po' la stessa cosa. Anche qui un pochino qualcuno ha detto che ricorda un po' Piranesi, perché è un po' vero, perché ci sono questi mattoncini, questo rapporto con la scultura, con il colore, la storia del colore, la storia della rappresentazione. Quello, anche l'immagine di per sé, l'immagine televisiva, l'immagine del cinema, anche molto. Funziona un po' così, vedo il luogo, capisco un po' quali sono gli elementi che mi possono servire, appunto proiettori, videocamere, registrazioni, perché qui c'è anche una registrazione. Poi mi servono per raccontare, per poter costruire questa mostra. Mi sono accorto, entrando, che potevo mettere questi proiettori e scansionare questo spazio tra delle proiezioni e disegni e delle ombre delle colonne stesse, che sono le ombre naturali. Ora, se poi uno fa un percorso che è inevitabile fare, perché insomma uno comincia a girare intorno, si accorgerà che ci sono come dei, adesso diciamo frame, sembrano un po' le, sembra proprio un film, come i fotogrammi, i fotogrammi di un film. Infatti c'è un passaggio di video e questa zona d'ombra, come uno stacco, perciò è come se ci fosse proprio il movimento anche del film, del film sul fotogramma però, esattamente. Le persone intervengono sempre nel lavoro attraverso l'interruzione, perché io metto i proiettori sempre bassi in maniera che le persone possano interrompere e a loro volta inserirsi con l'ombra vera. È una domanda, perché poi a quel punto non si sa più qual è verità, qual è finzione, oppure si vedono attraverso delle telecamere nel disegno, perciò anche qui in realtà è finzione, vengono sempre messe una sull'altra, esattamente con un procedimento che direi quasi di natura calcografica, come sono le stampe in calcografia che si mettono le quadricromie o che si mettono strati su strati. E poi decostruisco tutti questi elementi, cioè ognuno è separato dall'altro, però poi dopo li riunisco in un insieme che può raccontare e avere vari, in questo caso la parola che non piace, livelli, però direi proprio così, livelli di interpretazione. Molte persone vedono cose che io non vedo, cioè mi insegnano, mi fanno vedere delle cose, perciò per me è una sorpresa e mi deve sorprendere, devo essere il primo a essere sorpreso del lavoro, assolutamente, e allora vuol dire che il lavoro c'è, se sono io che mi sorprendo, il momento in cui non mi sorprenderò, mi annoierò, è finita.